Buonasera, come dicevo agli amici che sono venuti a prendermi stazione ho dimenticato in treno gli appunti che da una parte costituisce un problema ma forse per voi è anche meglio perché sicuramente vi avrei tediato con una gran quantità di dati che a me sembravano assolutamente importanti da riferirvi non avendo la possibilità di memorizzare anche i dati forse una volta quando ero giovane sveglio adesso non lo sono più cerco di riassumere l'essenziale delle cose che avevo pensato di dirvi questa sera intanto faccio un passo indietro e mi presento io sono un giornalista ho passato tutta la mia vita fare il giornalista ho avuto anche un breve periodo al termine della mia carriera professionale in una grande banca ho fatto la comunicazione per unicredit italiano per circa cinque anni nella fase in cui unicredit italiano è diventato una grande banca internazionale mi sono molto divertito a girare il mondo con profumo comprare banche e a studiare paesi per noi sconosciuti perché spesso era veramente una come dire andavamo a operare su un terreno che non conoscevamo ricordo un giorno in in bulgaria sofia stavamo avendo un incontro con il primo ministro bulgaro e profumo infervorato dalla presentazione della propria banca ha detto perché noi abbiamo già comperato una banca in polonia la prima banca della polonia sicuramente voi potrete appoggiarvi sulla polonia io gli davo delle pedate sotto il tavolo perché avevo letto andando in aereo a sofia che i bulgari tutto potevano apprezzare tranne che noi gli mettessimo un cappello noi siamo gli italiani che vi comprano però poi verrete gestiti dai polacchi cosa che immaginavo li avrebbe alquanto infastiditi in effetti il primo ministro un certo costo vedevo che si stava progressivamente irrigidendo e a profumo ha capito la situazione ha recuperato brillantemente eccetera ma questo questo episodio per dire come dietro ai grandi processi economici spesso ci siano anche delle realtà che si fa fatica a immaginare invece invece i processi economici procedono anche sulla base della capacità che uno ha di documentarsi di informarsi di ragionare sulle diversità altrui e sulle proprie e quindi per trovare le mediazioni giuste perché senza quello non si riesce a fare business allora per tornare al mio profilo professionale io sono un giornalista ho lavorato per tanti giornali sono stato anche con direttore del mondo che è un giornale piuttosto noto ho lavorato per panorama insomma adesso non voglio tirare fuori le medaglie ho avuto una carriera molto soddisfacente io sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto dopo cinque anni di banca però mi mi sono come dire o mi sono guardato lo specchio ho detto ma non mi riconosco più tanto in no nella 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 mia storia professionale quindi ho chiuso in maniera eccellente mantenendo degli ottimi rapporti con con uno in credito quella quella fase della mia vita e ho inventato questa rivista che ho portato a modi volantino per farvi vedere questo è l'ultimo numero si chiama ist è una rivista che mescola un po i generi fa si occupa sia di economia sia di politica sia di di cultura sia di analisi sociale con un focus in particolare sull'europa dell'allargamento cioè sull'europa 25 e sull'oriente perché l'oriente come dice peraltro la testata no ist sta per est l'oriente è l'origine un po di tutta la civiltà le le cose nuove sono sempre venute dall'oriente forse non in quest'ultimo diciamo in quest'ultimo periodo storico però nella storia diciamo che le grandi novità sono venute da oriente e adesso probabilmente torneranno di nuovo a venire dall'oriente per le ragioni che andrò a dirvi tra un minuto quindi la rivista è una rivista internazionale perché pubblicata sia in italiano sia in inglese viene distribuita in italia in edicola con scarso successo perché è una rivista diciamo piuttosto elittaria sia per il costo sia per per diciamo per i contenuti che non sono proprio leggerissimi viene distribuita in libreria dove invece va un po meglio viene distribuita per abbonamento raggiunge all'incirca 5 6 mila italiani di ciò siamo più che soddisfatti perché credo che difficilmente una rivista del genere può arrivare 10 mila copie lo dico sulla base delle esperienze di mercato che che si possono fare la cosa forse interessante è che cominciamo ad avere un apprezzamento all'estero con l'edizione in inglese all'estero noi arriviamo non attraverso una distribuzione ordinaria ma attraverso delle liste di opinion leader selezionate paese per paese quindi facciamo una distribuzione mirata a classe dirigente degli altri paesi in particolare dell'est europa ma non solo andiamo anche negli stati uniti andiamo anche a londra lì cominciamo ad avere degli interessanti riscontri la rivista c'è anche anche un proprio sito c'è un sito online da cui si possono anche scaricare gratuitamente un tot di articoli altri invece sono a pagamento ma credo che aboliremo questa forma di come dire diversazione perché perché abbiamo visto che in realtà è un impedimento e quindi penso che liberalizzeremo daremo tutti la possibilità di scaricare gli articoli ha un comitato scientifico autorevolissimo a parte il sottoscritto ci sono persone molto note perché c'è massimo cacciari per esempio che segue tutto il settore cultura che mi dà una mano diciamo a trovare delle idee originali su questo c'è alessandro profumo che naturalmente si occupa di economia di banche sergio romano che è un editorialista del corriere che tutti conoscete renato ruggero ex ministro del commercio estero ex ministro dell'industria attuale consigliere di prodi per la costruzione dell'europa il professor fabrizio nida grande economista è stato prorettore della bocconi è tuttora uno degli economisti più più noti aldo bonomi un sociologo che molti conoscono perché forse è il migliore rede di giuseppe derita derita era il sociologo dei territori è il sociologo che ha scoperto le economie del cespuglio no negli anni 60 70 che ha scoperto prato che ha scoperto le monoculture no che la valorizzate che le ha imposte anche all'attenzione nazionale bonomi è cresciuto con derita ed è probabilmente oggi il migliore rede di derita nel senso che il suo gruppo di lavoro che si chiama aster sforna una quantità rilevante di analisi dei territori specifici cioè vanno a fare inchiesta sui territori e fanno un lavoro che i giornali non fanno quasi più una volta i giornali facevano inchiesta adesso lo fanno sempre meno per fortuna che ci sono ancora dei sociologi che invece fanno questo tipo di lavoro perché senza un'analisi diciamo socio economica dei territori è difficile fare qualunque tipo di come dire di ragionamento ma anche qualunque tipo di valutazione sulle politiche che servono per governare un determinato territorio beh io credo aver detto tutto su questa rivista più di così non riesco a propagandare me stesso quindi chiudiamo il capitolo e veniamo un attimo ai temi che mi hanno proposto gli organizzatori della serata mi hanno chiesto di parlare di globalizzazione cosa 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 diciamo quali sono gli aspetti più interessanti più rilevanti della globalizzazione e di come dentro la globalizzazione noi possiamo anche difendere prima lo diceva l'amico di cui non ricordo più il nome possiamo anche difendere una visione etica no una visione una visione morale no possiamo mantenere diciamo determinati valori senza essere travolti da valori che non condividiamo oppure che non capiamo il che è anche peggio allora io comincerei col dire naturalmente non ho preparato una relazione strutturata anche se non avessi perso i miei appunti i miei appunti non configuravano una relazione di tipo professorale era semplicemente un modo ragionato di porre dei punti alla discussione per 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 avviare se possibile una discussione tra di noi allora il primo punto io credo sia questo noi parliamo di globalizzazione ma dobbiamo sapere che la globalizzazione è un prisma che ha moltissime facce se noi andiamo nella periferia di los angeles dove vivono un numero imprecisato di milioni di persone nessuno sa esattamente quanti noi vediamo una quantità rilevante di 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 antenne satellitari quindi in una situazione socio economica in cui probabilmente il reddito medio pro capite è di 300 400 500 dollari l'anno vale a dire un dollaro al giorno per vivere noi abbiamo la televisione satellitare che arriva in questi posti e che propone i modelli a cui noi siamo invece assolutamente abituati quindi delle stupende signore bionde levigate perfettamente mantenute anche a 40 anni che si spruzzano di deodoranti di tutti i tipi quindi questo tipo di immagine di di modello arriva appunto non so se anche a corococcio ma certamente l'ho visto io a los angeles nelle grandi bidonville ci arrivano questi modelli quindi questo è un aspetto della globalizzazione a cui noi prestiamo poca attenzione a mio parere perché proviamo a immaginare che cosa significa per gente che non ha di che vivere giorno per giorno che non va a scuola che non ha lavoro la proposizione di questi modelli che sono modelli che noi consideriamo universali ma in realtà sono molto meno universali di quello che possiamo pensare sono i modelli tipici delle società ricche che costituiscono una minoranza nel mondo non certo la maggioranza un altro aspetto il football no adesso il milan va a giocarsi la finale di coppa dei campioni ad atene l'ultima volta era successo ad istanbul beh io conosco abbastanza bene istanbul istanbul non è certo una come dire una città di un paese sotto sviluppato ma ecco se noi pensiamo ai nostri standard di vita ai nostri standard economici sociali di consumo eccetera istanbul è molti molti anni indietro rispetto a noi e certamente la cultura media diciamo di una città come istanbul è ben diversa allora il calcio per loro è una cosa un po diversa da quello che per noi per noi è un qualche cosa in più è un divertimento in più è un piacere in più rispetto alle tante cose che già abbiamo per loro diventa una questione invece che ha una 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 radice molto molto solida molto profonda diventa quasi un terreno su cui riscattare no su cui giocarsi un riscatto etnico sociale comunque culturale eccetera e beh questa partita milan liverpool che si va a giocare ad atene che fa parte dell'europa ma che è uno dei paesi più poveri dell'europa propone anche qui un modello che certamente è un modello al di fuori della portata di queste di queste popolazioni di questi paesi questo è un altro aspetto della globalizzazione ma un altro aspetto ancora quello forse più prevedibile quello più trattato ma su cui meno si ragiona in realtà è l'aspetto dell'economia noi abbiamo nel mondo i paesi cosiddetti ricchi che hanno una media di pil pro capite cioè di ricchezza prodotta anno per anno diviso per il numero delle persone che sta intorno a 25 mila dollari l'anno bene se noi andiamo in paesi come quelli dell'america latina nella maggior parte dei paesi dell'america latina nella maggior parte dei paesi dell'asia e non parliamo dell'africa noi vediamo che il pil medio pro capite oscilla tra 500 dollari l'anno e 2 mila 3 mila 4 mila dollari l'anno nell'ambito della stessa europa a 25 cioè anzi a 27 perché adesso sono entrati altri due paesi noi abbiamo delle differenze abissali perché la croazia ha un pil pro capite annuale di circa 9 mila dollari l'italia è sopra i 20 mila la germania è sopra 25 mila quindi la differenza è esattamente di 1 a 3 un croato diciamo ha a disposizione una ricchezza che è un terzo e probabilmente meno di un terzo di quella che ha a disposizione un italiano allora ci sono dentro la globalizzazione delle diversità per farla breve spaventose delle diversità enormi ma le diversità non sono statiche i trend che le tendenze i processi che avvengono dentro questo quadro che noi tendiamo a considerare statico ma che statico non è i trend sono la cosa forse più interessante della globalizzazione e che cosa ci dicono i trend beh intanto il trend principale è quello che vede declinare il mondo ricco il mondo occidentale quindi stati uniti europa giappone declinare non perché non ci sia sviluppo in realtà lo sviluppo c'è ancora gli stati uniti crescono del 4 5 per cento l'anno l'europa cresce del 2 e mezzo 3 il giappone cresce del 4 5 anche lui in questo momento almeno quindi non è che non ci sia sviluppo ma questo sviluppo è niente in confronto allo sviluppo che stanno avendo aree diciamo come la cina o come l'india che viaggiano su una media che va dall'8 all'11 12 per cento l'anno in cina hanno cercato di tirare i freni di rallentare perché si sono resi conto che stavano crescendo troppo in fretta e poi vedremo perché diciamo se lo ponevano come problema non ci sono riusciti anche quest'anno la cina chiude quest'anno intendo dire nel 2006 ha chiuso con un incremento dell'11 per cento cioè un punto al di sopra di quello che era il loro diciamo il loro obiettivo l'india viaggia su un incremento leggermente inferiore che sta tra il 7 e il 9 per cento ma comunque molto elevato quindi la prima considerazione da fare è che se noi guardiamo le cose in prospettiva da qua a 10 15 20 anni noi dobbiamo concludere che cina e india sorpasseranno stati uniti ed europa nel giro di pochissimi anni c'è chi dice nel 2020 c'è chi dice nel 2015 c'è chi dice nel 2030 qua nessuno in grado di dirlo perché naturalmente poi intervengono molte variabili che è difficile calcolare a tavolino quello che è sicuro è che la cina in particolare ma la cina e l'india perché non a caso federico rampini ha scritto un libro intitolato cindia perché tra cina e india si sono stabilite delle relazioni non solo politiche anche economiche molto forti e cina e india vanno considerate da un punto di vista economico come se fossero non la stessa cosa ma comunque una cosa un'area di scambio molto integrata allora la previsione è che se non saranno 10 saranno 20 anni ma da qui a 20 anni questa sarà la prima economia del mondo vi lascio immaginare che cosa significhi tutto questo in termini politici strategico militari culturali eccetera eccetera poi ci torno su dopo mentre india cina e resto delle alcune aree dell'africa dell'asia scusate le cosiddette tigri viaggiano a questi ritmi di sviluppo gli stati uniti l'europa e il giappone sostanzialmente mantengono un ritmo intorno al 3-4% l'anno quindi non è che stiano andando male però certamente perdono terreno l'America Latina cresce ad un ritmo molto più basso anche se la situazione dell'America Latina è molto diversificata perché ci sono paesi come il Brasile che crescono molto velocemente e anzi si parla del Brasile come una delle 4-5 nuove potenze mondiali emergenti insieme al Sud Africa insieme appunto alle tigri asiatiche però diciamo che facendo media l'America Latina cresce molto di meno di quanto non cresca l'Asia e cresce un po' di più di quanto non crescano gli Stati Uniti l'Africa cresce dell'1-2% l'anno anche questa è una media quindi come tutte le medie vuol dire che uno mangia due polli e un altro non ne mangia neanche uno però diciamo che comunque è il tasso di crescita più basso del mondo ora sempre proiettandoci a 15-20 anni quindi noi vediamo che abbiamo da un punto di vista economico una supremazia dell'area Cina-India un declino inesorabile dell'area dei paesi ricchi tradizionali quindi gli Stati Uniti l'Europa in particolare ma anche il Giappone un declino dell'Africa molto pesante e l'America Latina che è un po' una come dire un'incognita perché in America Latina dipenderà un po' dalla strada che prenderanno alcuni paesi importanti come l'Argentina in particolare allora questo è secondo me il discorso che nella globalizzazione secondo me ma naturalmente secondo molti osservatori diciamo che hanno ci hanno pensato sopra è l'aspetto più interessante perché perché gli sconvolgimenti che noi avremo non saranno soltanto di tipo economico cioè il fatto che noi oggi si possa andare a comprare questa camicia cinese costa 8 euro sì 8 euro infatti ho detto scusi me ne dia due perché se costa 8 euro sono andato a Chinatown dove a Milano non si trovano più le camicie di jeans non so perché si trovano solo quelle di Ermenegildo Zegna che costano 220 euro allora ho detto ma perché vado a cercarla a Chinatown a Chinatown te ne danno una con 8 euro e due con 16 anzi ti fanno anche lo scoto se ne prendi due allora noi queste cose le viviamo con una grande insofferenza perché tutti i nostri imprenditori ovviamente sono preoccupatissimi di non poter più vendere le scarpe di non vendere più le camicie di non vendere più qualunque cosa perché i cinesi arrivano e fanno come dire una concorrenza ti stracciano con dei prezzi che sono bassissimi questo lo sappiamo ma quello che non sappiamo è che loro nel frattempo stanno investendo sulla scolarità per cui già oggi producono più ingegneri degli Stati Uniti ergo tra 20 anni i cinesi avranno molti più ingegneri di quanti non ne abbia il cosiddetto mondo occidentale e la stessa cosa vale per gli indiani i quali hanno un vantaggio rispetto ai cinesi essendo molto bravi a parlare l'inglese che è la lingua diciamo che tutti parlano nel mondo perché hanno avuto la dominazione inglese per tanti anni e studiando l'inglese come una delle lingue principali gli indiani possono oggi fare nel mondo un lavoro che i tecnici chiamano di software house mondiale cioè i grandi scenografi quelli che raccontano i destini del mondo a vent'anni dicono che la Cina sarà la grande fabbrica del mondo cioè quella che produrrà i prodotti i manufatti a basso costo per tutti gli indiani saranno quelli che elaboreranno il software cioè che forniranno i programmi per i nostri computer che svolgeranno un ruolo diciamo di background di servizi per tutto il mondo ricco e gli altri e gli altri appunto punto di domanda gli altri bisogna bisogna capire e qui vengo allora a cercare di individuare alcuni punti che a me sembrano interessanti per una riflessione prima riflessione a bruciapelo gli americani che sono la prima potenza militare e tecnologica del mondo accetteranno senza colpo ferire che i cinesi li sorpassino dal punto di vista economico domandina a cui nessuno è in grado di dare una risposta perché naturalmente non possiamo sapere come gli Stati Uniti reagiranno noi sappiamo quello che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi anni grazie ad una scellerata a mio parere politica che li governava può anche darsi che i repubblicani di Bush debbano passare la mano ai democratici anzi direi che è abbastanza scontato però non è che questo di per sé cambi sostanzialmente il quadro perché il quadro resta comunque un quadro di involuzione di declino di come dire di passaggio in secondo piano di quella che è stata la principale potenza mondiale dopo la seconda guerra mondiale anzi lo era già prima ma insomma con la seconda guerra mondiale lo è diventato quindi per più di mezzo secolo gli Stati Uniti hanno dominato la scena mondiale possono gli Stati Uniti accettare senza appunto reagire in qualche modo che i cinesi passino avanti passino avanti non soltanto vendendo ripeto le scarpe a un costo più basso ma anche avendo più ingegneri sviluppando una politica di conquista dello spazio come già stanno facendo eccetera 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 cioè tutto quello che comporta il fatto di essere i più ricchi al mondo perché alla fine questo è il problema quindi questo è un punto interrogativo ma questo è solo se vogliamo quello più inquietante perché ci fa pensare purtroppo sinistramente che le cose potrebbero anche andare a finire male nel senso che hai visto mai che per fermare questo processo si intervengono in una maniera diciamo così autoritaria come spesso è successo nella storia perché non è che gli imperi siano crollati o abbiano come dire abbiano lasciato il passo agli imperi ascendenti senza combattere di solito questo regolamento dei conti nella storia avviene in maniera traumatica salvo casi rarissimi non è mai capitato secondo punto che vi propongo la Russia la Russia era un paese che sembrava finito dopo la caduta del muro di Berlino dopo la caduta del comunismo eccetera sembrava finito perché il sistema economico politico sociale di democrazia non riggeva più non stava più in piedi non l'ha buttato giù nessuno in realtà è imploso cioè si sono si sono distrutti da soli perché così non potevano più andare avanti ma la Russia è tuttavia se la Cina è la fabbrica del futuro e l'India è la software house del futuro la Russia è sicuramente quella che tiene in mano i tubi del gas i tubi del gas gli oleodotti e anche il carbone che da noi diciamo non è molto trendy parlare di carbone perché pecorare a Roscagno è giustamente il contrario ma se noi andiamo in Cina per esempio che consuma tantissima energia i cinesi trovano conveniente mixare petrolio gas e carbone loro usano tantissimo carbone e infatti uno dei grandi inquinatori dell'atmosfera terrestre è proprio la Cina perché sta consumando delle quantità impressionanti di carbon fossile inquinanti ma questo è un altro discorso tornando alla Russia la Russia è quel paese che ha i più grandi giacimenti di risorse naturali e quindi la Russia grazie a questo ha potuto permettersi di tornare velocemente ad un ruolo mondiale senza aver risolto nel durante alcuni problemi fondamentali che riguardano la struttura politica la struttura sociale cioè la Russia è passata da un sistema dittatoriale possiamo etichettarlo come vogliamo ma insomma quello che era il comunismo è passato da quella roba lì a un periodo di anarchia sostanziale e ad una forma di nuova dittatura perché di questo si tratta di nuova dittatura dove sostanzialmente non esistono le libertà così come noi le conosciamo così come noi le abbiamo conquistate l'opposizione in Russia finisce quasi sempre in galera e lì buttano via la chiave non è come da noi che ti danno le attenuanti dopo tre anni poi ti danno la possibilità di uscire di andare a fare magari una conferenza no lì ti prendono ti mettono dentro e ti buttano via la chiave e questo è il modo in cui Putin sta regolando i conti con l'opposizione politica quindi noi possiamo naturalmente dire come fa Sergio Romano con cui io discuto sempre di queste cose perché lui è di destra e sono di sinistra per quello che oggi può ancora voler dire essere di destra o di sinistra però lui è convinto che Putin sia comunque un passo avanti sostanziale rispetto ad una situazione precedente e io dico che sarà anche un passo avanti però se non stiamo attenti a quello che combina il rischio è che avendo in mano delle levi potenti come appunto quelle dell'energia noi ci troviamo poi a dover accettare i rigatti che la Russia è in grado di esercitare su di noi i russi peraltro stanno facendo una spregiudicatissima politica di alleanze internazionali perché si sono molto spostati sui cinesi per contrastare per controbilanciare il potere degli americani e degli europei stanno trescando con il medio oriente anche lì per inserirsi in una contraddizione aperta tra occidente e islam no islam è sbagliato dire islam diciamo mondo islamico perché l'islam è un'altra cosa quindi i sovietici gli ex sovietici i russi stanno facendo una politica che a medio termine può essere molto pericolosa anche per gli europei la Cina la Cina abbiamo detto è una grandissima potenza non solo in termini potenziali ma anche in termini reali tuttavia tuttavia la Cina è un paese che sfida la legge di gravità perché la Cina riesce a combinare una cultura politica di tipo marxista con una struttura economica di tipo capitalistico di stato capitalismo di stato con una realtà sociale che è differenziatissima perché le condizioni di vita gli stili di vita delle zone di nuovo sviluppo o di Pechino e Shanghai rispetto alla enormità poi della provincia cinese della campagna cinese beh le diversità sono abissali ci sono delle diversità enormi qui naturalmente non ho delle esperienze personali ma leggo quello che scrivono quelli che viaggiano e dicono è un miracolo che ancora non siano esplose guardate che io ho qualche anno vedo che qualcuno ha la mia età più o meno ma insomma si diceva ai tempi di Mao Zedong che la grande contraddizione della Cina era il diverso grado di sviluppo tra città e campagna il divario che cresceva tra città e campagna beh quella contraddizione lì non solo non è stata sanata ma si è aggravata oggi le condizioni di vita tendiamo a vedere il reddito per esempio pro capite nelle campagne rispetto alle città è aumentato il divario non è diminuito quindi la Cina è un enigma totale nessuno è in grado di dire cosa potrà succedere in Cina da qua a 10 15-20 anni potrebbe implodere come è successo all'Unione Sovietica appunto potrebbe invece scaricare all'esterno i propri problemi potrebbe essere tentata come spesso capita nella storia di portare fuori inventando dei nemici esterni le proprie contraddizioni e risolvendola diciamo così un po' sbrigativamente è uno scenario non so quanto realistico oggi ma certo noi dobbiamo mettere in conto che possa anche andare così altra incognita è naturalmente l'Europa l'Europa diciamo è uno dei potenti ammortizzatori di questa caotica situazione mondiale ma lo è in potenza nella realtà non riesce a svolgere questo ruolo di ammortizzatore perché è un ammortizzatore perché l'Europa è è un'area di grandissima civiltà di lunga storia l'Europa è in grado di come dire di dare a tutti lezioni su come si costruisce una democrazia e su come si gestisce una democrazia perché le democrazie sono nate qui non sono nate altrove sono nate qui la mediazione sociale la cosiddetta mediazione sociale l'hanno inventata gli europei non l'hanno inventata i cinesi anzi quelli non ci pensano proprio a mediare e neanche gli americani che l'hanno semmai semmai importata no? e comunque molto più recentemente l'Europa quindi può essere un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie dei contrasti delle contraddizioni delle diversità di interesse proprio perché ha alle spalle questo grandissimo background culturale politico può essere anche un importante ammortizzatore dal punto di vista economico perché l'Europa ha 27 quanti siamo ma diventeranno di più qui mi spiace davvero aver perso gli appunti perché avevo tutta la scaletta di quelli che entreranno nei prossimi anni l'Europa allargata rappresenta un mercato di circa 500 milioni 600 milioni di persone quindi un mercato potenzialmente ricchissimo dove i ricchi guadagnano lavorando con i paesi più poveri e i poveri crescono velocemente proprio perché possono interagire con i paesi più ricchi proprio da questo tipo di divario interno che può nascere uno sviluppo molto forte quindi l'Europa in teoria potrebbe svolgere un grande ruolo anche sul terreno economico ma anche sul terreno militar strategico l'Europa è un grandissimo ammortizzatore perché l'Europa potrebbe per esempio impedire una deriva asiatica della Russia se avesse una politica sufficientemente intelligente capace di tenere i russi agganciati all'Europa piuttosto che lasciarli andare invece in un'alleanza strategica diciamo diversa tutto questo è quello che l'Europa potrebbe fare l'Europa oggi non è in grado di fare nulla di tutto ciò in realtà oggi l'Europa è prigioniera delle proprie contraddizioni è una grande area di libero scambio dove certamente chi entra diciamo trova delle condizioni favorevoli e quindi ha la possibilità di crescere molto velocemente dove chi invece ha delle economie più mature come l'Italia come la Germania come la Francia ha dei mercati di sbocco dentro l'Europa molto facili da raggiungere molto comodi e anche molto tutto questo è senz'altro vero ma al di là diciamo di quest'area di libero scambio per ora si è fatto ben poco è auspicabile alcuni dicono che dopo le elezioni francesi con la vittoria di Sarkozy con la Germania che è tornata a svolgere un ruolo importante di traino e con l'Inghilterra che prima o poi deve fare i conti con se stessa perché l'Inghilterra ha avuto diciamo la possibilità di giocare su due tavoli quello degli Stati Uniti e quello dell'Europa per molti anni grazie anche al fatto che l'Europa era debole e gli Stati Uniti erano invece molto aggressivi molto come dire molto presenti sulla scena mondiale e quindi Blair è riuscito a tenere i piedi in due staffe la City lavora diciamo per l'Europa ma l'Inghilterra non fa parte organica dell'Europa che è una contraddizione pazzesca ora questa contraddizione potrebbe risolversi finalmente in favore dell'Europa perché il potere diciamo attraente dell'America è destinato a diminuire mentre si spera possa aumentare il potere diciamo di attrazione da parte dell'Europa se Germania Francia e magari anche l'Italia cioè i paesi più importanti tra quelli che hanno fondato l'Europa tornano ad avere un ruolo guida io qua credo che qui esprimo un'opinione che è condivisa da molti ma altri possono anche pensarli diversamente credo che i problemi siano fondamentalmente due una il primo problema è legato al carattere eccessivamente ambizioso della Costituzione europea probabilmente si pensava di poter arrivare ad un livello diciamo di unità cultural politico istituzionale molto alto in poco tempo e la realtà ci dice che è difficile arrivare a quello gli inglesi hanno già detto ma mi pare lo dica anche Sarkozy che ci vorrebbe invece una Costituzione molto più sintetica che si limitasse a definire diciamo i paletti essenziali per una coesistenza nell'ambito di una comunità politica integrata quindi quelli che sono i pilastri ma senza andare oltre e quindi realizzare una tappa in termini molto pragmatici per poi fare dei successivi passi in avanti più avanti il secondo fattore diciamo critico è legato al modo in cui finora ha funzionato la governance interna all'Europa noi siamo ancora ancorati a un meccanismo per cui se non si vota se non si approva l'unanimità non si approva nulla cioè basta che uno si alzi e dica io non sono d'accordo e lì cade l'asino non si può fare niente probabilmente questo meccanismo funzionava quando l'Europa era fatta da sei paesi o anche da nove paesi già con 15 era difficile con 27 diventa impossibile quindi questo meccanismo questa governance va profondamente riformata va stabilito il principio delle maggioranze anche lì anche perché anche perché le grandi difficoltà in termini politici all'Europa ultimamente sono avvenute proprio dai paesi che sono entrati più recentemente che sono paesi politicamente molto instabili ne cito uno soltanto che è più importante di tutti la Polonia la Polonia entra dopo la presa del potere di Solidarnosc entra in una maniera molto democratica plebiscitaria perché Solidarnosc era appoggiata dalla popolazione aveva adesso non ricordo bene le percentuali di voto ma comunque aveva delle percentuali bulgare per tornare all'esempio di profumo aveva un consenso molto forte in Polonia beh nel giro di pochi anni abbiamo visto di tutto abbiamo visto un ritorno alle forze che prima governavano quindi ai comunisti addirittura al governo adesso abbiamo scherzato di 180 gradi e abbiamo un governo in Polonia che è di estrema destra ma di estrema destra da tutti i punti di vista non soltanto dal punto di vista economico politico ma anche da un punto di vista culturale quindi l'instabilità dei paesi che entrano in Europa è un fattore potente di paralisi per l'Europa se l'Europa non adotta delle contromisure io credo che queste contromisure probabilmente stanno in un fatto regolamentare che naturalmente è un fatto politico perché non è banale passare da un modo diciamo di gestione a un modo di gestione che può sembrare autoritario soprattutto ai nuovi a quelli che entrano perché hanno la sensazione che tu lo faccia contro di loro ed è esattamente quello che bisognerebbe fare detto tra di noi quindi questi sono alcuni dei punti che io vi propongo ad una riflessione che stanno dentro il cosiddetto discorso della globalizzazione naturalmente si potrebbe andare avanti e parlare di tantissime cose però io credo che questo sia un po' un po' l'essenziale dentro questo ci sta un'ultima cosa su cui mi soffermo ma molto rapidamente e cioè un problema che poi ci tocca da vicino tutti la coesistenza tra popolazioni etnie culture diverse tra di loro che ha come radice proprio la diversità di sviluppo di cui parlavo all'inizio se noi non avessimo dei ritmi di sviluppo così diversificati tra che ne so l'Europa del Nord e il Maghreb tra l'America Latina e gli Stati Uniti tra la Turchia e la Germania se non avessimo questi spaventosi divari non avremmo queste spaventose migrazioni di popolazioni perché è chiaro che la radice di questo è la diversità dello sviluppo quindi qui c'è un problema colossale che è come governare politicamente un processo che apparentemente non è governabile perché sembra che l'economia sia dominante su questo processo chi lo può fare lo può fare l'ONU l'ONU io dicevo prima cena è un buon amministratore di condominio ma l'ONU non è niente di diverso da quello che i paesi che comandano il mondo decidono di fargli fare e siccome hanno sempre pensato ha ritenuto che l'ONU dovesse svolgere diciamo una funzione minima ma niente di più l'ONU non è certamente in grado di governare questi processi allora potrebbe essere una leadership mondiale ma una leadership mondiale abbiamo visto che quella che c'è è in discussione e non si sa quale sarà quella di domani quindi qui c'è un punto di domanda enorme chi governa in questa transizione così complicata così difficile di globalizzazione chi governa i processi dal punto di vista politico cioè chi si preoccupa di fare in modo che questi processi non producano degli antagonismi sociali etnici culturali eccetera talmente forti da mandare per aria tutto quanto emblematico da questo punto di vista è il rapporto tra occidente e islam mondo islamico io scusate dico islam ma in realtà l'islam è una religione io assolutamente non intendo riferirmi alla religione intendo riferirmi al mondo che si riconosce nell'islam ma che al proprio interno ha naturalmente moltissime diversificazioni beh credo che questo sia un problema nel problema cioè se abbiamo di che preoccuparci di quello che dicevo fino ad oggi il problema dell'islam è una complicazione ulteriore perché qui abbiamo per la prima volta una consapevole soggettiva scelta di campo di alcuni di alcuni paesi e di alcune fette del mondo islamico in contrapposizione all'occidente questa è la prima volta che succede in maniera così come dire così consapevole cioè è una una volontà di scontro a cui noi non siamo abituati perché non è stato così quando i giapponesi crescevano del 10% l'anno e noi dell'uno no? tutto sommato i giapponesi hanno un'altra cultura un altro sistema politico un altro sistema di vita eccetera ma non sono mai posti in termini antagonistici ma nemmeno la Cina l'ha fatto ma neanche la Cina l'ha fatto perché la Cina oggi assorbe anzi moltissimi valori occidentali moltissimi stili di vita occidentali non si contrappone frontalmente resiste su internet per esempio a posto dei paletti piuttosto rigidi no? su certi che ne so su certi valori che per noi sono sacri che ne so che chi sbaglia non va mandato a morte no? ma va possibilmente messo in galera e se possibile recuperato lì loro proprio non ci sono loro ammazzano un sacco di gente tutti gli anni quindi non è che siano proprio come noi però non si sono mai contrapposti non hanno mai detto i nostri valori sono migliori dei vostri noi vogliamo diciamo avere un ruolo da protagonisti nel mondo perché pensiamo di essere più bravi di voi migliori di voi cosa che invece purtroppo sta succedendo nel mondo islamico anche come conseguenza l'ho già detto di una nefanda politica portata avanti dagli Stati Uniti però non è sarebbe troppo come dire assolutorio vedere soltanto quell'aspetto in realtà c'è anche un aspetto soggettivo che non è da sottovalutare allora siccome mi rendo conto che il quadro che vi ho tracciato è un filino disperante io dicevo agli amici con cui ho accenato che diventando vecchi si diventa un po' più un po' più scettici un po' meno un po' meno ottimisti sulle possibilità di cambiare le cose in effetti oggi il pessimismo della ragione è perfettamente giustificato non c'è nulla che induca all'ottimismo della ragione se un ottimismo dobbiamo conservare è quello della volontà come diceva Gramsci certamente quello a me non è mai mancato e non mi manca neanche oggi però la vedo veramente nera per essere chiari la vedo nera e credo che tutto sommato dipenda un pochino anche da noi stessi scusate non vorrei fare un discorso bassamente demagogico populistico non è questo il punto però io credo che se in Italia per esempio prevalessero delle forze politiche che ritengono che l'Europa sia da rifiutare perché la nomenclatura di Bruxelles la burocrazia di Bruxelles i boiardi di Bruxelles e così via se questo tipo di discorso attecchisce e se attecchiscono i discorsi che dicono che i cinesi vanno combattuti non soltanto con i dazi doganali ma vanno combattuti anche in altro modo come pure in Italia noi abbiamo delle forze politiche che la pensano così cioè che pensano di difendersi dalla competitività dei paesi emergenti erigendo dei muri e non solo erigendo dei muri ma preparandosi anche a dei combattimenti non solo figurati ecco allora io quando dicevo dipende anche da noi dipende non da noi come singoli ovviamente ma da noi come nazione perché l'Italia tutto sommato è un paese che ha un peso nel contesto europeo sicuramente lo può avere anche nel contesto mondiale proprio per alcune eccellenze che vengono riconosciute gli italiani quindi non è indifferente se in Italia appunto c'è un governo di un tipo o un governo di un altro tipo a me non interessa adesso fare della propaganda perché non è neanche il mio mestiere però certamente dobbiamo essere consapevoli che non è banale ecco che ci sia un governo orientato in un modo aperto oppure un governo che tira sui muri e che pensa e che pensa di mandare a casa le badanti quelle degli altri perché le loro non le mandano mica a casa posso fare questa domanda all'interno dei trend economici che ci ha descritto qual è la sua opinione in merito alla fine che faranno i sistemi di protezione sociali in quanto sostanzialmente le nazioni emergenti non credo brillino certo per una tradizione consolidata di welfare state che non fosse un timore abbastanza diffuso che tra l'altro era un timore anche credo di parte cavalcato anche della politica italiana del fatto che sostanzialmente la concorrenza che ci veniva dai paesi emergenti comportasse sostanzialmente un dumping sociale ovvero costringesse i paesi attualmente l'occidente diciamo ma io non credo che quando dicevo che l'Italia e l'Europa possono giocare un grande ruolo nel mondo è proprio per questa ragione perché non penso che la questione sia in termini di alternativa noi dobbiamo smantellare il nostro sistema sociale per tornare ad essere competitivi nei confronti non è questo perché si possono trovare le mediazioni che naturalmente rendono comunque efficiente un sistema di welfare che efficiente non è perché diciamo la verità noi a volte difendiamo anche delle cause perse perché non è che tutto il nostro welfare sia difendibile ci sono molti aspetti del nostro welfare che sono parassitari che sono un puro costo servono a mantenere delle delle categorie sociali servono a mantenere degli interessi di gruppi di lobby eccetera però non hanno un'utilità sociale vera quindi al netto delle necessarie riforme efficientistiche uso una parola brutta ma è un po' il senso di quello che voglio dire noi dobbiamo rendere efficiente il sistema di welfare ma non smantellare il welfare perché anzi questo è un traguardo per molti dei paesi che entrano in Europa e lo deve essere anche per i paesi che oggi producono scarpe a dei costi bassissimi perché lavorano anziché 8 ore 16 ore lavorano a 16 anni a 15 anni a 12 anni fanno le notti la fabbrica è anche un dormitorio in Cina eccetera 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 quindi guai se noi pensassimo che il problema si risolve correndo dietro ai loro modelli al contrario noi dovremmo cercare di far capire che ci può essere invece anche per loro un modello di produzione e un modello sociale diverso quindi cominciare smantellando quello che di buono abbiamo fatto lo dico anche nei confronti degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono un paese che ha smantellato molto il proprio welfare non ha mai avuto per la verità non ha mai avuto un welfare paragonabile a quello dell'Europa perché gli Stati Uniti sono un paese strano da questo punto di vista non hanno mai avuto dei grandi movimenti sociali che hanno in qualche modo preteso e imposto delle politiche protettive loro hanno sempre avuto un'economia crescente a dei ritmi molto veloci che consentiva di recuperare comunque lo scontento se tu perdevi il posto di lavoro da una parte lo trovi da un'altra se non guadagnavi abbastanza in un posto cambiavi lavoro facilmente perché per eccellenza loro sono il paese della mobilità della mobilità sociale quindi questo diciamo in qualche modo controbilanciava la mancanza di un welfare di tipo europeo però anche lì loro sono arrivati anche loro al capolinea perché adesso se voi andate a vedere le campagne elettorali che stanno facendo i democratici i democratici stanno pensando di reintrodurre molti sistemi di protezione sociale perché sono arrivati anche loro al limite quindi non possono più andare avanti così quindi se la domanda è dobbiamo rinunciare al nostro welfare per secondo me sarebbe una risposta sbagliatissima e credo anzi che il ruolo dell'Europa sia proprio quello di tracciare una strada che è mediana tra le strade di nuova schiavitù dell'Asia le strade del liberalismo sfrenato degli Stati Uniti l'Europa rappresenta ancora un modello importante e anche vincente guardate che in Europa non è che tutti crescano all'1-2% l'anno come l'Italia la Germania cresce del 4 la Svegia cresce del 5,5-6 ci sono dei paesi che crescono tantissimo l'Inghilterra cresce molto Blair è vero Blair è vero che è venuto dopo la Thatcher che aveva fatto tabula rasa di molta parte del welfare inglese però non è che aveva buttato via tutto quello che era anzi ha ripristinato molte cose oggi l'assistenza sanitaria in Inghilterra è migliore di quello che non fosse ai tempi della Thatcher non sarà a livello italiano ma comunque hanno fatto di grandi passi hanno recuperato molto molto noi di globale abbiamo la finanza l'informazione le armi che altro non lo so le idee no la televisione probabilmente sta diventando globale dico la televisione per riferirmi a un fatto di cronaca di questi giorni Mediaset che compra Endemol Endemol è una multinazionale che produce dei format televisivi noi guardiamo Fazio che tempo che fa e pensiamo che sia una trasmissione originale invece la trasmissione di Fazio è stata inventata da Endemol che è un gruppo olandese che ha venduto questo format in tutto il mondo poi naturalmente ogni paese adatta il format alle proprie caratteristiche alle proprie peculiarità però Endemol è un esempio classico di come la globalizzazione nel campo diciamo almeno dell'intrattenimento stia marciando velocissimamente ma anche sull'informazione c'è una globalizzazione molto spinta perché anche qui è cronaca di questi giorni il signor Mardock che già è il più importante editore di televisione di giornali del mondo si sta comprando la Reuters e insieme alla Reuters scusate la Reuters il gruppo del Wastigione il Dow Jones che è il gruppo americano a cui fa capo il Wastigione quindi anche nell'informazione c'è una grande concentrazione la finanza viene per prima se c'è come dire uno strumento di globalizzazione universalmente riconosciuto questa è la finanza noi oggi compriamo indifferentemente titoli del mercato italiano del mercato americano del mercato giapponese non so chi di voi abbia un conto online e faccia delle operazioni di trading online io quando ho smesso di fare di fare giornalista pensavo di essere diventato bravo a fare queste cose e ho preso dei bagni di sangue spaventosi giocando col computer e comprando titoli beh è una cosa che però chiunque può fare oggi con un computer se si ha un conto online si possono comprare titoli cinesi thailandesi quello che volete la finanza la finanza la finanza è all'origine in realtà è il vero il vero motore della globalizzazione c'è una data che è il 1986 quando a Londra hanno fatto il cosiddetto Big Bang cioè la borsa di Londra che era la più importante borsa del mondo insieme a quella americana è passata dalle grida alla alla trattazione informatica quindi la trattazione in tempo reale in collegamento in tempo reale con tutte le borse del mondo di fatto quello è stato il Big Bang nel senso che da lì è partito tutto perché da lì sono partiti i capitali europei o americani verso l'Asia da lì sono partiti i flussi finanziari massicci sono partiti non che non ci fossero anche prima c'erano però erano marginali da quel momento lì sono diventati importanti perché il risparmio accumulato negli Stati Uniti o in Europa investito in economie mature come quella europea americana rende X investito in economie in via di sviluppo quindi che hanno dei tassi di crescita molto rapidi rende molto di più e questo è il meccanismo fondamentale che spinge la globalizzazione quindi la domanda è assolutamente pertinente naturalmente c'è una sinistra in Italia in particolare ma in realtà nel mondo che vede questo in termini molto negativi perché dice la globalizzazione dovrebbe essere spinta dai valori dalle culture non dalla finanza però questo è come dire come petizione di principio è anche accettabile ma la realtà nella storia non è mai stata questa in realtà quasi tutti i grandi cambiamenti sono stati determinati da cambiamenti intervenuti prima nella struttura economica il marxismo stesso è una cultura politica che è costruita sul presupposto che sono i modi di produzione che determinano il modo di pensare e anche la cultura politica quindi non so come dire è vero quello che lei dice la finanza è certamente globale ed è una grande spinta per la globalizzazione però la finanza è anche di per sé un fatto democratico non è che la finanza sia in qualche modo riconducibile a una persona fisica o a degli interessi diciamo particolari la finanza è guardate spesso si sottovaluta il fatto che un grande fondo di investimento americano investe delle quantità impressionanti di quattrini ma quei quattrini sono i risparmi delle famiglie americane che si mantengono la pensione in quel modo lì perché non avendo loro la pensione dell'Inps la pensione ce l'hanno dai fondi pensione i fondi pensione a loro volta confluiscono nei fondi di investimento che vanno a investire in tutto il mondo quindi in realtà se guardiamo bene la circolazione del denaro ha alla base il risparmio degli individui o che poi naturalmente ci siano i poteri finanziari che sfruttano utilizzano eccetera questo è ovvio però non è detto che debba essere per forza un fatto classista o negativo è anche un fatto di grande diffusione della cultura dell'investimento che diventa da cultura elitaria una cultura di massa e qui per noi forse è impressionante dire queste cose perché in Italia c'è poca cultura finanziaria di massa ma se voi uscite dall'Italia invece ce n'è molto di più ce n'è molta di più un operaio americano è abituato a guardare anche l'andamento dei titoli in borsa perché lui sa qual è il paniere dei suoi titoli presso il fondo di investimento e quindi va a vedere giorno per giorno come stanno andando i suoi risparmi o la sua pensione questo tipo di cultura di massa da noi non c'è perché noi ci arriviamo tardi da questo punto di vista non c'è dubbio che siamo un po' indietro rispetto ad altri però direi che io non ho una visione una visione negativa del fatto che la finanza spinga sono più preoccupato francamente della concentrazione globale dell'informazione perché se mi si riducono le fonti di ingresso di approvvigionamento dell'informazione beh questo sì che rappresenta un impoverimento drammatico perché significa che le cose che mi vengono riferite sono non verificabili o le prendo per buone oppure le prendo per buone non c'è un'alternativa mentre adesso posso sulla politica italiana mettere a confronto il Corriere con la Repubblica il giornale con il Corriere o quello che volete a livello mondiale se la Reuters mi dice che in Cina hanno fatto questo e quest'altro sono portato a crederci perché non ho altri modi per saperlo quindi mi sarei più preoccupato francamente della concentrazione che si sta realizzando nel campo dell'informazione poi però come sempre siamo in una fase si dice di transizione in realtà siamo sempre in transizione speriamo che dentro questa grande concentrazione poi ci siano anche i presupposti per un nuovo decentramento in molti settori economici nella cultura magari è un po' più complicato ma in molti settori economici c'è una fase diciamo di massimizzazione del profitto che porta alla concentrazione poi c'è una fase invece di redistribuzione di nuovo delle risorse in maniera decentrata quindi possiamo da questo punto di vista essere più meno pessimisti se non ottimisti meno pessimisti dovete alzare la voce perché io vi sento prodotti finanziari quelli di cui futuro oppure ce ne sono alcuni ancora più complicati e prodotti finanziari oggi sono complicatissimi sono complicatissimi ma io ho tenuto anche il fatto che raggiunga dei livelli di sofisticazione molto elevati ma infatti io ho fatto per due anni una trasmissione televisiva che vedeva tutta la mia famiglia e credo pochi altri era stata una delle prime trasmissioni sul risparmio e allora io introducevo sempre la mia la mia